Quei zucchero aiutano sempre con l'acido! Adesso, come hai detto che le banote sono rosse, e sei vero che non sei qualcosa, capisci? Sei vero? Corpessive! E vicino a me non c'è n'è arte e n'è pane! Adesso sempre con l'acido è meglio scala con Pablo Zima, ma hanno sempre fatto noi e io e tutti l'internazionale! No, Italia, l'internazionale con Pablo Zima di Trentarici! E ho cominciato a trovare questa ferpa, quello che stai facendo aiutaci per piacere! Mi faccio un pitbull! Quando io parlo, la spavacacacca, stai facendo con i miei signi! Tu arrambicare! Perché non puoi far sapere! Ah sì, non ho mai! Non ho scordato! E stai mi attendo a me! Se vuoi trovare la tregua, cominciato a stare così! Perché si parli, eh! Ma veramente i sociali! Se chiamo i cinesi che hanno mandato TikTok! Diccio! Allì, cato! Levo da rompo TikTok! Stai mi attendo a me! Vai, suoi! birth cannonsio! vi! Trareste, ci! Mil Chipare! Levo does edits? attraver勿ano, Vi! Grazie a tutti